Grande successo per la serata delle Fonti Awards, tenutasi lo scorso giovedì 23 maggio nella splendida cornice di Palazzo Mezzanotte a Milano con il patrocinio della Commissione Europea. La cerimonia di premiazione è stata preceduta da un CEO Summit dal titolo Evoluzione Digitale e Mercato Assicurativo, quali prospettive per il futuro, che ha visto l'interessante confronto dei esperti del settore. La serata è poi proseguita con la cerimonia di assegnazione dei premi condotta da Manuela Donghi, giornalista di Le Fonti TV, con la partecipazione esclusiva dell'attore e presentatore Germano Lanzoni. La serata delle Fonti Awards è stata interamente dedicata all'evoluzione del digitale e alle possibili sinergie con il mondo delle assicurazioni. Allora passiamo al CEO dell'anno Digital Transformation Insurance Ramo Vita, il vincitore è Davide Passero Alleanza Assicurazioni. Alla guida di Alleanza Assicurazioni Davide Passero si è contraddistinto per le sue grandi doti di competenza, leadership, dimostrate attraverso la trasformazione digitale della rete e l'innovazione dell'offerta assicurativa, raggiungendo prestigiosi traguardi professionali e consolidando Alleanza come Eccellenza Insurance del Ramo Vita. Bravissimo, veloce, giusto come deve essere, sul palco un applauso per Davide. Grazie! Quali sono i progetti che state implementando verso questa direzione? Diciamo che per noi la digitalizzazione è un percorso che è iniziato ormai tre anni fa e che stiamo sostanzialmente completando e si tratta di abilitare la nostra rete, che è una rete diretta, all'utilizzo della tecnologia per regalare un servizio al cliente che sia in qualche modo indimenticabile. Naturalmente questo richiede un cambiamento nei comportamenti delle persone, quindi parlare di digitalizzazione significa parlare di change management e quindi la parte difficile non è la parte tecnologica, la parte di avere degli strumenti che siano come dicono gli americani state of the art. La tecnologia si compra. L'adoption, l'adozione di questa tecnologia da parte delle persone significa che le persone devono imparare a comportarsi, a lavorare in modo diverso da come hanno fatto negli ultimi vent'anni e questa è veramente una sfida. Parliamo invece anche di Customer Experience, che è un altro degli obiettivi dichiarati da parte di Alleanza. Ecco, cosa significa per voi Customer Experience, a che punto siete di questo percorso e quali sono le nuove strategie che state mettendo in campo? La Customer Experience ha come presupposto il fatto di avere completato il processo di trasformazione digitale. Noi pensiamo e siamo in prossimità dell'arrivo di avere dotato di tecnologia digitale 15.000 persone sul territorio e questa è una piattaforma. Sulla base di questa piattaforma noi pensiamo di poter costruire esperienza di valore per il cliente. Noi pensiamo che in un mercato in profonda trasformazione noi abbiamo uno spazio, solo se sapremmo usare e unire tecnologia digitale e tocco personale e quindi dall'unione di questi due aspetti creare un'esperienza per il cliente, un experience company come si usa dire, che sia unica quantomeno per il mercato assicurativo italiano. Questa è la nostra sfida per i prossimi tre anni e io credo che siamo ben posizionati per riuscire a vincerla. Da poco avete terminato un road show per presentare lo stile alleanza. Di cosa si tratta? Ah, stile alleanza è la sostanza di quanto appena detto e cioè se noi vogliamo regalare un'esperienza indimenticabile ai nostri clienti dobbiamo essere in grado di creare per loro meraviglia che significa regalargli un'esperienza di servizio meritevole di essere raccontata. E noi pensiamo che in questo ci si debba avere uno stile distintivo che sarà il nostro vero vantaggio competitivo. Uno stile fatto di consulenza di valore, quindi capace di parlare all'emisfero destro, sinistro scusami, quello razionale delle persone. Avere un tocco personale che sappia parlare all'emotività delle persone, quindi creare empatia, supportato da una tecnologia digitale che attraverso un'orchestrazione multimediale regali appunto un'esperienza di servizio che le persone non si aspettano. Quello che non ti aspetti da un assicuratore e che quindi crea meraviglia.